L'edizione della Masters of Magic World Convention che è il più importante evento di magia del mondo. Ci sono più di 1500 maghi da tutto il pianeta, tutto il pianeta vuol dire veramente dall'Australia, dalla Corea, dal Sud America, da ovunque, che vengono qui a Torino, alla Reggio di Venaria, per inventare i nuovi prestigi che stupieranno i bambini di tutte le età, quindi bambini che hanno voglia di sognare dagli 0 ai 99 anni. E noi qui alla Reggio di Venaria inventeremo nuovi giochi e poi ci sarà un gran grado di magia tipo Silvio Soleil della Magia con nove artisti internazionali straordinari, coordinati in un modo magistrale che prepareranno al pubblico uno spettacolo unico che vi consiglio assolutamente di vedere. La magia è un'arte straordinaria, piena di cultura, dove si può imparare a pensare in modo diverso, si può imparare a realizzare l'impossibile, è un'arte che insegna a pensare in modo straordinario, cioè fuori dall'ordinario. Sta avendo molto successo perché sicuramente c'è stato un grande lavoro per quello che va da Hollywood di film, c'è stato un grande apporto da parte della Rolling con Harry Potter e mi fa piacere pensare che noi con Masters of Magic abbiamo dato un apporto importante perché tutti i programmi di magia in onda in Italia negli ultimi 13 anni, quindi Rai, Magic, Sky, sono stati inventati prodotti da noi. Abbiamo prodotto più di 1500 spettacoli, grandi festival e quindi abbiamo sicuramente contaminato la magia. Questo nasce dal fatto che io racconto di essere lucidamente schizofrenico perché sono nato mago e mi sono involuto e voluto ingegnere. Quindi ho unito, crescendo le mie due passioni, quella di creare un'azienda come Masters of Magic che è diventata leader al mondo, abbiamo un quattro Guinness dei primati che testimonino la nostra unicità e di unirla con la magia. Sta funzionando molto bene, quindi diciamo che un minimo di merito ci piace pensare che sia anche nostra. Dobbiamo fare un invito allora per così dire magico a chiunque vorrà incuriosirsi con la nostra magia. Allora, per chiunque voglia vivere 100 ore di straordinaria magia, l'appuntamento è dal 16, 17, 18, 19 maggio alla Reggio di Venaria. Avremo ogni tipo di emozione magica, potrete scegliere tra conferenze, spettacoli, workshop. E poi vi invito al Masters of Magic World Tour che è lo spettacolo ufficiale dell'evento. Il 17, 18, 19 maggio è sempre la Reggio di Venaria. Trovate tutto quanto su VivaTicket, venite per vivere insieme a noi la più grande emozione magica di sempre.